Lo skyline è una promessa mantenuta, capace di dare un'identità alla città sia con la luce del giorno, quando sono le forme a farla da padrone, sia quando scende la notte e l'architettura diventa colore. La Corniche è il biglietto da visita con cui Doha, la capitale del Qatar, accoglie i turisti che ora pure dall'Italia stanno scoprendo la destinazione, grazie anche alla decisione del gruppo Alpitour di puntare sull'Emirato degli Altani, con un'offerta che vuole unire la vacanza balneare alla possibilità di scoprire i tesori del piccolo Stato, collegato al nostro paese da voli diretti Qatar Airways operativi su Milano, Roma, Venezia e Pisa. Fabio Lamelli, Contacting Manager del brand Franco Rosso. Non a caso il gruppo Alpitour ha scelto di inaugurare questa destinazione con il brand Franco Rosso che storicamente è il brand degli itinerari, è il brand di un turismo più culturale. A colpire infatti, visitando Doha, ma non solo, è la ricchezza dell'offerta culturale, nonché l'attenzione che è stata riservata all'educazione. Molte università stranieri hanno aperto succursali in Qatar e la National Library della capitale è, oltre che un gioiello architettonico, anche un luogo che appare per vaso da vero fermento culturale. Futuristica anche la concezione della nuova moschia di Education City, con i minareti che sembrano monumenti dedicati all'era spaziale. Ma forse, il loro chiave per la cultura in Qatar è il Museo di Arte Islamica di Doha, incastronato da Kistarpei nel cuore del porto. Una raccolta di tesori che spazia dai gioielli alla scultura, dalla calligrafia alla pittura. Poi però, si arriva al deserto e dopo aver sperimentato una corsa in fuori strada sulle dune, ecco che si trova il mare e la proposta balneare del gruppo Alpitour, che in Qatar ha puntato sul Sea Club Sea Line Beach, in un'area sud di Doha, molto amata per le vacanze anche dai catarini. Il punto mare è un punto mare eccezionale, è una struttura quattro stelle che riflette molto il nostro concetto di club italiano. Lo abbiamo arricchito con un'animazione franco-rosso, ovviamente con l'assistenza, e abbiamo lavorato un pochino sulla customizzazione dei pasti. Ad ora, invece, il gruppo Alpitour ha scelto per la proposta alberghiera il Sea Diamond San Regis Hotel, elegante risorto in una spiaggia privata con vista sullo skyline e un'offerta gastronomica decisamente variegata dalla cucina locale a Gordon Ramsay. Il brand San Regis è ben conosciuto, quindi parliamo di una struttura di altissimo livello, e siamo riusciti, grazie all'aiuto dei colleghi del San Regis, a vestirlo un po' con qualche caratteristica italiana. Il Qatar è come luogo da scoprire, insomma, anche in vista dei mondiali di calcio del 2022, per i quali fervono i preparativi, tanto che nel cuore del Suc di Dora si può già alzare la coppa. Ma non mancano neppure i luoghi dell'arte contemporanea, dalla vecchia stazione dei pompieri della capitale, che ospita residenze d'artista, fino al monumentale intervento di Richard Serra nel deserto del nord. I primi riscontri sono stati, sia in termini di passeggeri molto alti e molto oltre le nostre aspettative, e anche in termini di report cliente, i primi commenti sono stati veramente molto buoni.